Musica Aiutiamo questi bambini ad andare a scuola e a mangiare, dare il cibo, i vestiti, i materie didattiche per andare a scuola. Un anno fa abbiamo cominciato a nutrire più di 120 bambini. Musica Io direi che aiutare un bambino è costruire un mondo, aiutare un bambino è dare, diciamo, il futuro, un buon futuro al domani. Cerchiamo di aiutare tutti i sei villaggi facendo i possi. Sicuramente l'acqua è un elemento basilare per la vita e non è possibile che oggi, nel 2023, persone devano bere acqua stagnante o acqua non pulita. Abbiamo fiducia all'aiuto di tutti per costruire un mondo nuovo, un mondo bello, un mondo piacevole. Iniesa, per chi non lo sapesse, nella lingua locale vuol dire vita, rispetto a tante associazioni, noi siamo nel piccolo ma vogliamo fare cose grandi. Il 4 febbraio, un'occasione della mezza maratona delle due perle, lì avrete la possibilità, come avete fatto lo scorso anno, di poter consegnare la cauzione, la cauzione del CIP, direttamente nelle mani di Padre Felice. Musica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti